Allora, eccoci qua. Finito e montato, set abbastanza carino, abbiamo appunto la botte su un tavolino, il nostro bel barbecue con padella, salsiccia e bottiglia e il nostro Frodo, che ahimè, come sempre, la luce, non so se riesco a dare bene il viso, con bicchiere. Non so, ho trovato un gambo per i fiori extra, mi sembra un po' strano, però per il resto i soliti pezzi extra, eccoci qua. Allora, sono andato a verificare con il Frodo dell'arrivo di Gandalf e devo dire che, ecco, purtroppo c'è la luce che storpia sempre, sono uguali sia il busto sia l'espressione. Naturalmente ha le due espressioni, una sorridente, purtroppo non riesco a inquadrare bene, e l'altra pensierosa, un po' più corrucciata. Ecco. Quindi, un bel set, carino, naturalmente aggiungerò una piccola base o comunque lo adatterò perché a me di avere sempre i Lego che possono rotolare da tutte le parti non mi piace. Ecco, poi è arrivato un intruso perché giustamente cerca la salsiccia, suo figlio salsiccia. Cerco? Cerco salsiccia. Va bene. Ironia. Ragazzi, alla prossima. Ciao.